Stop al conferimento di rifiuti organici all'impianto TB Spa. A seguito di un'indagine condotta dalle autorità competenti, la settimana scorsa sono stati sequestrati 5 lotti di ammendante compostato misto, lotti che adesso saranno soggetti a verifiche qualitative da parte dei carabinieri forestali di loro ciuffenna, coadiuvati da Arpa Tarezzo e dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari. A dare la notizia la società stessa sul proprio sito internet che annuncia anche possibili disagi per il servizio di raccolta differenziata dell'umido. Il provvedimento preso dalle autorità impedisce in questo momento a TB Spa di poter operare all'interno dell'area di lavorazione per la produzione di ammendante compostato misto. In altre parole, al momento è interrotto il conferimento del cosiddetto FORZU, ovvero la frazione organica rifiuti solidi urbani. Il blocco all'attività dell'azienda per quanto riguarda la lavorazione dei rifiuti organici ha ripercussioni non di poco conto. La società ha comunicato a lato Toscana Sud e dalle aziende di igiene urbana che conferiscono nello stabilimento situato all'interno dell'area di podere rota che a partire da oggi non sarà possibile conferire i rifiuti organici da raccolta differenziata presso l'impianto TB Spa. In attesa dell'esito delle analisi sui rifiuti, la situazione rimane quindi bloccata. Soltanto un esito positivo delle verifiche può sbloccare l'impasso. Una situazione che crea disagi alla cittadinanza in quanto di fatto si stoppa per il momento la raccolta differenziata porta a porta dell'umido. La società TB Spa si mette a disposizione degli organi inquirenti per chiarire la propria posizione e riattivare al più presto il servizio di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.